Oggi a terza pagina un saggio su Machiavelli e un libro per ragazzi ambientato nel mondo di internet. Tra 4 e 500 gli stati italiani perdono la loro libertà a vantaggio di Francia e Spagna. È una catastrofe storica. Il resoconto di questa disfatta è sottotitolo e tema del saggio di Alberto Asorrosa, Machiavelli e l'Italia, rovina politica in un tempo di splendore culturale. Io mi limito a constatare la presenza di queste due fenomenologie contraddittorie che forse, e questo è il dato secondo me particolarmente significativo, non sono caratteristiche solo di quei 30-40 anni, ma sono forse una situazione ricorrente nella realtà italiana di tutti i tempi, forse fino ai nostri giorni. A questa situazione drammatica Machiavelli tenta di fornire una risposta. Ed è una risposta strategica, vorrebbe essere una risposta strategica a quella crisi, una serie di norme e di suggerimenti perché l'Italia riemerga da questa fase iniziale della crisi. Questo è il Principe, trattato politico scritto nel 1513, al quale Machiavelli attribuisce anche la speranza di tornare sulla scena politica dopo esserne stato violentemente allontanato, la sua disfatta personale. Invece di abbandonarsi al precipizio reagisce scrivendo il Principe. La sua carriera politica non riprenderà più il volo, l'Italia riacquisterà la propria libertà dopo tre secoli e mezzo. Di Machiavelli resta la grandezza del trattato politico con il quale, spiega a Sorrosa, siamo chiamati a confrontarci ancora oggi. Il 6 maggio del 1952 muore a Nordvik in Olanda Maria Montessori, pedagogista, filosofa, neuropsichiatra infantile, famosa per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, primarie, secondarie e superiori in tutto il mondo. Sword Art Online è un'opera conosciuta a livello internazionale e molto molto famosa, avendo venduto quasi 20 milioni di copie in tutto il mondo. Ed è una storia di realtà virtuale, è una storia di ragazzi che giocano a questo gioco talmente realistico che ricalca completamente la realtà, al punto tale che se si muore nel gioco si muore anche nella vita vera. Di conseguenza ci sono dei giocatori che si perdono in questo mondo e non riescono più a ritornare alla vita reale. Parlando con l'autore è emerso che vuole essere anche una sorta di metafora di una disperazione adolescenziale. Una critica alla società è più che altro una riflessione sull'abbandono dei ragazzi che si perdono in mondi virtuali e non riescono più a ritornare alla vita quotidiana. Grazie!